non prenderti cura di lui poi lo vado a prendere cosa stavi dicendo un nuovo prototipo di una motocicletta volante oggi sarà venduto illegalmente c'è una barca sul mare di alamo con il luogo della vendita capisco trovo la barca trovo il luogo di vendita e vi porto il prototipo bravo ragazzo un'ultima cosa per non lasciare tracce o testimoni ok ho capito torno presto è che non penso che possa andare qui perché mi serve un veicolo per due ma nessuno mi sta inseguendo giusto vai e andiamo davanti grazie a tutti grazie a tutti